Ho cominciato a bere verso 15 anni, però a quel punto era più che altro con gli amici, stavamo insieme, era un modo chiaro che in quegli anni la bottiglia era una compagna, ma ancora non c'era questa dipendenza, questa cosa che poi negli anni seguenti è stata sempre una disgrazia per me, perché mia moglie per quanto sopportava questa cosa che non mi riuscivo a liberare, però poi pienamente la bottiglia è diventata una schiavitù, una vera schiavitù. E quando poi è successa la cosa della bambina, siccome la colpa era mia, e sul lavoro poi i colleghi con questo fatto che magari ero un po' irascibile perché bevevo, e quindi quando poi mia moglie si è potuta andare via con la bambina e io invece di lasciare, sono rimasto ancora più attaccato a questa bottiglia e ora sono un'alcolizzata, sì, sono un'alcolizzata. Ma sei seriopositivo? No. Allora è l'altro studio? Ah, scuso. Allora è l'altro studio? Grazie.